Salve a tutti, rieccoci al consueto appuntamento con le previsioni meteo. Vediamo quello che ci attende. Affogge domani mercoledì nubi in progressivo aumento con piogge rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserina in serata, sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, la minima di 20. Le temperature ancora sotto la media stagionale. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.